Musica Etg più sindaco l'appuntamento con il primo cittadino di Como al quale do il benvenuto. Buonasera Mario Lucini. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Iniziamo come sempre con un piccolo riassunto dei temi più caldi della settimana. Parleremo di vigili urbani perché c'è una forte polemica attorno alla nomina del nuovo comandante protempore della polizia locale di Como. Ma parleremo anche di Svizzera perché domenica gli svizzeri sono andati al voto. Un referendum tramite il quale hanno espresso la volontà di fissare dei tetti all'immigrazione. Quindi dei limiti per gli stranieri che entrano nel paese. E il clima nei confronti dei frontalieri, gli italiani che lavorano oltre confine, è più che mai teso, come ce ne sono tantissimi. Però abbiamo anche tanti altri argomenti. Parleremo di manutenzione della città, parleremo di bilancio. Ma iniziamo subito proprio dai vigili sindaco. Dai vigili perché, come abbiamo sentito peraltro nel Tg poco fa, ci sono delle polemiche attorno alla nomina del nuovo comandante protempore. Vincenzo Graziani, che per anni, più di 20, è stato il capo della polizia locale di Como, ha scelto altre strade. E quindi, nell'attesa del concorso che di fatto nominerà il nuovo capo dei vigili, c'era bisogno di un dirigente protempore. Avete scelto un nome sul quale non tutti sono d'accordo. Si parla tanto di Fazio, non tanto perché fra una settimana inizia il festival di Sanremo, ma di Fazio, il dirigente del comune all'informatica, che adesso è anche capo della polizia locale. Tutti si aspettavano però la nomina di Vincenzo Aiello, che è stato lo storico vice di Graziani, nonché un ufficiale davvero benvoluto all'interno del corpo. Perché avete scelto Fazio? Perché andando in pensione un dirigente, la procedura normale prevede che venga sostituito con un altro dirigente. Quindi il maggiore Aiello è un ottimo ufficiale, ha svolto con grande impegno, con ottimi risultati sul ruolo di vicecomandante, ma occupa un ruolo di funzionario. Per cui il processo per una sostituzione di questo tipo non ci è sembrato il più lineare a salvaguardia di tutti. Dopodiché nel frattempo è stata aperta, come prevede la normativa per la sostituzione di un posto dirigenziale, la mobilità. Una procedura di mobilità per verificare se in altri enti ci sono comandanti di vigili che possono essere interessati ad assumere questo ruolo. È stata aperta a fine novembre, nei prossimi giorni ci saranno i colloqui con i candidati e quindi si verificherà la possibilità di usufruire di questa possibilità che è la procedura prevista normalmente dalle normative. Dopodiché qualora andasse infruttuosa questa procedura di mobilità si dovrà passare a un concorso. Se invece si troverà un candidato idoneo a ricoprire il ruolo, in poco tempo potrà essere... Leni fa un discorso burocratico, lo dico in un'accezione neutra, non negativa. La procedura doveva essere questa, però simbolicamente l'ex ormai comandante Graziani ha consegnato la bandiera del corpo ad Aiello e all'interno del corpo della polizia locale tanti si aspettavano la nomina di Aiello. Era veramente impossibile bypassare questa procedura burocratica o meglio era impossibile nominare Aiello? No, impossibile no. Bisognava fare un incarico da dirigente utilizzando una procedura diversa per una persona che in questo momento non riveste il ruolo di dirigente. Quindi si poteva. Era come un incarico esterno, diciamo. Secondo noi non era la procedura più lineare, legittima, ma non è la procedura più lineare a salvaguardia di tutti, sia di noi sia delle persone coinvolte. Perché la procedura più lineare è questa. Chiarissimo. Passiamo di Palinfrasca, saltiamo di Palinfrasca. Come dicevamo abbiamo chiuso il capitolo polizia locale, parliamo di Svizzera. Tra poco ricordo che apriremo le linee 031-3300-655, iniziate a segnarvi il numero, oppure sindaco-et-espansione-tv.it. Linee ancora chiuse per adesso perché abbiamo da affrontare col sindaco di Como l'argomento Svizzera. Lo dicevamo in apertura. Domenica gli svizzeri hanno votato una proposta, un referendum che di fatto chiede, impegna il governo di Verna, lo impegna a fissare dei tetti all'immigrazione nella sostanza. Un referendum passato per percentuali molto risiccate, il 50,3 nella Confederazione, ma con una sorta di plebiscito in Ticino, il oltre il 60%. Quindi le letture politiche sono varie. C'è chi vede in questo risultato un clima, diciamo, tutt'altro che positivo nei confronti dei frontalieri che lavorano in Svizzera. E parliamo di migliaia e migliaia di comaschi. Sindaco, un commento politico su questo risultato? Il segnale è sicuramente preoccupante anche nella prospettiva europea del nostro continente. Un segnale di chiusura che certamente non ci lascia colpiti favorevolmente. Diciamo che, ci auguriamo, che in termini immediati non ci siano effetti né per le persone né per le comunità che vivono sul nostro territorio. Perché il referendum impegna entro tre anni a definire una normativa. Mi auguro che nel corso di questi tre anni ci sia la possibilità di approfondire anche i patti bilaterali che ci sono sia con l'Italia sia a livello di comunità europea per scongiurare un evento che sarebbe sicuramente negativo per il territorio, perché molti cittadini della nostra zona, della nostra provincia, lavorano in Svizzera. Ma credo sia tutto sommato negativo anche per la stessa confederazione elvetica, perché credo che la professionalità, la creatività, la voglia di lavorare degli italiani che prestano il loro servizio in Svizzera di anche un valore aggiunto di qualità alle imprese del territorio. Cioè chi dice che gli italiani siano indispensabili per il Ticino? Io sento anche dalla Svizzera tante valutazioni in questo senso. Forse c'è da intervenire su altri aspetti delle normative di questi rapporti. Le normative sul lavoro in Svizzera sono un po' diverse dalle nostre. Magari è più facile che ci siano delle sperequazioni che tendono a penalizzare magari i cittadini elvetici. Quindi magari un equilibrio diverso e più rispettoso di tutti sulla normativa del lavoro potrebbe anche essere opportuno. Una chiusura dei tetti credo che siano una scelta abbastanza miope e negativa sia per l'Italia che per la Svizzera. E proprio a proposito di questo risultato il governatore Lombardo Maroni ha commentato aggiungendo o rilanciando una proposta che già è sul tavolo da qualche mese una zona franca in Lombardia. Magari parleremo più avanti della fattibilità concreta di questa idea. Però lei è d'accordo? Sul fatto che l'imposizione fiscale nel nostro territorio sia molto pesante e che quindi il confronto con la vicina Svizzera renda più evidente questa differenza è un dato di fatto. Quindi la possibilità di avere una riduzione di questo carico fiscale anche e soprattutto per le imprese sarebbe un'importante opportunità di rilancio per il nostro territorio. Bisogna vedere in termini concreti quale sia la realizzabilità di un approvedimento di questo tipo. La interrompo un secondo, apriamo i telefoni 031-3300-655 per chiamare in diretto oppure potete scrivere a sindaco.espansionetv.it perché sicuramente sull'argomento arriveranno tante telefonate. Però anche se io con Maroni vado d'accordo è un po' curioso che... Mi viene da dire chi di barriere ferisce di barriere ferisce perché è un po' difficile difendere il libero accesso dei nostri cittadini in Svizzera quando poi sul nostro territorio si adottano linee o politiche in contrasto con queste aspettative. Quindi le dice sono tendenzialmente d'accordo però sulla fattibilità... La fattibilità non mi sembra semplicissima anche perché chiaramente deve esserci un impegno a livello nazionale. Mi immagino quanti altri territori di confine possano avanzare queste richieste. Mi sembra quasi più facile sapendo quanto comunque sarà difficile che ci sia un provvedimento, una revisione generale del carico fiscale sul lavoro in tutto il nostro paese che sicuramente penalizza molto le imprese e penalizza anche i lavoratori. Oggi Maroni ha visto Letta, Letta sembra non contrario anche se evidentemente Letta in questi momenti ha anche altre questioni politiche più delicate però si è detto assolutamente non contrario a un'ipotesi del genere. Sulla carta sconto ben o male il territorio ce l'ha fatta. Ma questo mi sembra assolutamente un provvedimento intelligente sia per il territorio sia per lo stesso Stato italiano. È chiaro che sulla benzina senza questo provvedimento il gettito anche per le casse dello Stato considerate le accise che ci sono sarebbe calato bruscamente quindi qui si dà un beneficio ai cittadini del territorio e un beneficio anche alle imprese del territorio che possono continuare a lavorare altrimenti la concorrenza della benzina svizzera sarebbe stata impossibile da combattere. Nello stesso tempo lo Stato incassa le accise pur facendo uno sconto quindi mi sembra un provvedimento assolutamente sensato e complimenti anche all'altra Maroni che ha combattuto molto su questo e sicuramente è apprezzabile. La interrompo un secondo, un attimo di pubblicità tra poco col Sindaco in diretta. Di nuovo in diretta con il Sindaco di Como, linee aperte 031-3300-655 oppure una mail a sindaco.espansionetv.it Mario Lucini è qui di fianco a me e vi risponderà a qualsiasi quesito. Provo. O almeno ci prova. Prima di prendere le telefonate, ricordiamo che le linee sono aperte, e una battuta sulla differenziata perché tra poco, tra qualche mese diciamo, a Como si cambia. Sì, era previsto nel nuovo appalto, è stata rinviata negli scorsi mesi l'attivazione della nuova raccolta perché c'erano delle cause pendenti al Tribunale Amministrativo Regionale. Finalmente la settimana scorsa abbiamo avuto l'esito positivo, cioè è stato respinto il ricorso dell'altra società che aveva partecipato al bando. quindi possiamo finalmente garantire la partenza che sarà all'inizio di giugno, all'inizio di giugno perché c'è bisogno di questi mesi per tutta l'attività di promozione, di informazione che partirà nelle prossime settimane perché certamente è una cosa molto positiva per la città ma richiederà un bel impegno anche ai cittadini perché il cambiamento sarà abbastanza radicale. E a proposito di cittadini abbiamo la prima telefonata pronto, buonasera. Pronto? Buonasera in diretta, ci dica pure. Sì, io sono Colombo. Buonasera. Buonasera. Volevo sentire dal signor Sindaco se c'è qualche progetto per sistemare quell'area in piazza Gerbetto dove c'era prima l'edicola. Sì, non c'è un progetto attualmente già fatto ma col nuovo regolamento sulle sponsorizzazioni contiamo anche perché non è un intervento di grandissime entità perché la superficie è piccola, ha ragione ad essere degradata perché non c'è più l'edicola, credo che in tempi ragionevolmente brevi potrà essere un'area oggetto di interesse anche da parte di privati per poter avere una sistemazione lì. Tra l'altro sulla stessa stazione abbiamo partecipato e vinto un bando della fondazione Cariplo, sarà installata anche una velo stazione per le biciclette per cui nei prossimi mesi qualcosa cambierà in quella zona. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, buonasera. Pronto? Buonasera, ci dica pure. Buonasera, vorrei parlare io col sindaco, guarda. In diretta. Buonasera. Buonasera. Dica. Ecco, ascolti, io abito via conciliazione qui così e qui ho un rischio quando usciamo di casa perché le macchine vengono giù a manetta, io sono proprio all'inizio, diciamo, alla fine della via conciliazione. Non si può fare qualcosa per queste macchine? Eh, grazie, buonasera. No, aspetti un attimo. Ci dica, ha un'altra domanda. Un'altra domanda. E poi abbiamo il parcheggio qui davanti che è diventata una cosa scena. Cioè? È sporco, strisce non ce ne... Saranno 4-5 anni che non ci sono strisce per terra, non si capisce più l'entrata e l'uscita. Va bene, d'accordo, adesso sul posteggio. Aveva altro? A posto così, la ringrazio e la saluto allora. Grazie, buonasera. Grazie. Beh, il posteggio, per quanto riguarda la segnaletica sul posteggio, sicuramente potrà essere fatta quest'estate perché la segnaletica, essendo alimentata da fondi vincolati che devono essere impegnati per forza per quello, dovrebbe godere di risorse sufficienti per intervenire in modo adeguato su tutta la città. Quindi quello sarà sicuramente ripristinato. Via conciliazione, capita, torna spesso in questi incontri, ma anche nei contatti normali che ci sono con i cittadini, effettivamente è pericolosa. Lì marciapiede è francamente molto complicato farlo perché non c'è il calibro adeguato per poter proteggere i pedoni, purtroppo tanti scendono con velocità inadeguate, non è possibile presidiare tutto il territorio con la vigilanza, ci possono essere dei controlli occasionali che potranno essere infittiti, visto che questo problema viene sollecitato da più cittadini, però poi bisogna sempre contare anche sul rispetto delle regole da parte di tutti perché non si può avere i carabinieri, i poliziotti, i vigili dappertutto, un pochino dovrebbe crescere anche la qualità dei nostri comportamenti. Senso civico che spesso è tornato ai nostri discorsi, io ne approfitto, rumbo 30 secondi per riconoscere una cosa, avevamo parlato in passato della rotonda di Montelimpino con la scritta benvenuti a Como completamente distrutta, non era di certo il primo problema della città ma era un brutto biglietto da visita per Como, ebbene la scritta è stata rimessa a posto. Ci è voluto un po' di tempo, però è giusto riconoscere anche ciò che funziona. Andiamo avanti, in attesa della prossima telefonata è arrivata una mail che apro in diretta a proposito di Piazza Santa Teresa, Simone ci scrive, vorrei chiedere al sindaco se vi sono speranze che il ponteggio presente da anni in Piazza Santa Teresa sotto il ponte della ferrovia venga rimosso, è un brutto biglietto da visita a proposito per chi entra in città dalla Garibaldina. Teniamo qui la mail e rispondiamo alla prossima telefonata, pronto buonasera? Sì. Buonasera. Si sente? Sì sì, la sento. Ci dica pure, in diretta. Guardi, deve abbassare il volume della televisione e ascoltare solo la cornetta, se non arrivi Buonasera, senta, io chiamo da zona Muggiò, io volevo chiedere al signor sindaco perché insomma... Pronto? Sì, pronto. Sì sì, parli pure, la stiamo ascoltando. Ah ok, perché sentivo la televisione. Ecco no, spenga la televisione, almeno abbassi il volume della televisione fino alla fine della telefonata. Ah ok, niente, io volevo sapere appunto perché abitando in via Muggiò, quando passano pullman, camion, camion pieni, vuoti, a parte che l'abitazione trema, cioè sembra di essere tutti i giorni ci sia il terremoto, per non dirle poi le crepe che ho in casa, come io e come tutti gli abitanti di questa via. E poi, insomma, il rumore, perché quando passano i camion vuoti, con i cassonetti vuoti, no, che nei cassoni vuoti, si sentono di quei boati tremendi, cioè io volevo chiedere se è possibile rimediare, mettere insomma un asfalto un po' più, ecco, un po' più perfetto, visto che comunque il piadotto è chiuso e quindi, diciamo, i mezzi pesanti passano tutti di qua, tra tombini, buche che non sono dovute dall'acqua, sono dovute all'usura della strada, noi qui in questa via è una cosa pessima. Chiarissimo. Grazie signora, buonasera. Arrivederci. Sì. Problema di non facile soluzione, perché se... Sì, anche se speriamo che un bel cambiamento ci possa essere tra pochi mesi, diciamo, tra poche settimane quasi. Aspetti un secondo che rispondo al telefono, resti un attimo in linea che lasciamo finire il sindaco. Va bene, la situazione dell'asfalti è disastrosa in molte zone della città. bisogna dire che lì c'è stato un aggravio particolare proprio legato anche alla chiusura del viadotto e al ritorno su quella via che era diventata via di quartiere col funzionamento del viadotto di tutto il traffico pesante di attraversamento. Doveva essere riaperto il viadotto a dicembre dell'anno scorso, poi c'è stato un ritardo sui lavori da parte di Pedemontana, ma le ultime notizie ci danno per aprile la riapertura del viadotto. Riaprire il viadotto vuol dire rimettere sullo stesso tutto il traffico pesante. Dopodiché potrà anche essere previsto, adesso vedremo nel piano asfalti quello che si potrà fare quest'estate, anche vediamo se ci sta un intervento di riasfaltatura anche sulla via Muggio, che comunque nel futuro dovrebbe essere molto meno sollecitata rispetto a quanto è avvenuto in questi ultimi due anni, anzi da giugno del 2012 che è chiuso, per cui non è mezzo. Quasi due anni. Grazie per l'attesa, abbiamo in linea un altro telespettatore che abbiamo fatto aspettare qualche secondo, lo salutiamo, buonasera Cidica. Buonasera. Buonasera, sono un abito in via Borgovico e volevo lamentarmi perché è una cosa spaventosa per l'immondizia. I primi tempi che è entrata la nuova azienda sembrava che era una cosa giusta, pulita e tutto, ultimamente invece per colpa di noi che mettiamo fuori i sacchi nei momenti sbagliati, l'ex sportico dell'Antisporta e da martedì scorso che ci sono della patumiera così abbandonata davanti al numero 89, 87, tutte le settimane ci sono i sacchi messi fuori nel modo sbagliato e oggi ho chiamato anche i vigeli, i vigeli ecologici purtroppo non mi rispondevano, ho chiamato i vigeli urbani e mi hanno detto che provvisoriamente non ci sono più i vigeli ecologici, però c'è non è una cosa giusta perché è appunto settimane e settimane che ci sono questa spazzatura in modo indecente e volevo indicare al signor sindaco che per piacere poteva fare qualcosa e vi ringrazio a tutti, comunque la colpa è anche di noi cittadini, non soltanto voi del comune. Grazie, buonasera. Buonasera. Grazie. Quindi dicevamo che ci vuole anche senso civico, in questo caso è stato riconosciuto, però il problema sembra abbastanza... Sì, sì, ma ho visto anche su Facebook alcune foto della situazione, adesso ho parlato anche oggi con l'assessore Magatti. Di fatto purtroppo questi comportamenti tra l'altro costano a tutti i cittadini, bisogna anche capire che i comportamenti scorretti per quanto riguarda sia il tipo di rifiuti che vengono esposti, sia i tempi di esposizione comportano degli interventi aggiuntivi da parte dell'azienda che ha vinto l'appalto, che sono fuori dall'appalto per cui vengono pagati in più e li paghiamo... Sì, bisogna dare un attimino di attenzione da parte di tutti i cittadini perché questi comportamenti, ripeto, ricadono nelle tasche di tutti i cittadini, però a fronte del, come diceva l'ascoltatore, del comportamento scorretto non è neanche pensabile che poi il materiale sia pur messo fuori in tempi sbagliati, in modi sbagliati, resti lì 15 giorni, quindi questo lo ringrazio per la segnalazione, bisognerà contattare la ditta per provvedere, sappiano tutti i cittadini che chi fa così però ci fa pagare di più perché è un intervento non previsto dall'appalto per cui ce lo paghiamo tutti insieme. L'azienda chiede ovviamente più soldi. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Alzi un pochino il tono della voce. Buonasera. Buonasera, ci dica. Ecco, io contesto una cosa. Stamattina hanno potato i platani sulla via D'Annunzio. Sulla via, scusi, D'Annunzio. D'Annunzio. Mi sembra un lavoro inutile perché i rami erano ancora corti, cioè non mi sembrava necessario potare questi platani. Io penso che con questi soldi si poteva benissimo fare qualche altra opera tipo riparare appunto le buche e ripristinare i marciapiedi. Poi volevo dire una cosa. Io qualche sera fa ho sentito proprio sulla telegiornale di estansione TV che qualche amministratore di Como, che fa parte del municipio, prende la bellezza di 70 mila e anche più euro, diciamo, forse come parcella per qualcosa o non lo so. Eravano gli incentivi di cui si era parlato? No, qualche amministratore no, di sicuro. Dirigente. Sì, ne hanno citati due e adesso non ricordo i nomi, però io dico che con questi soldi si poteva intervenire su tantissimi lavori qua, soprattutto nelle periferie, signor sindaco. Chiarissimo. Signora, dobbiamo andare in pubblicità. Al rientro il sindaco le risponderà. Grazie, buonasera. Buonasera, buonasera. Ci fermiamo un attimo, a tra poco. TGPU sindaco, l'appuntamento con il primo cittadino che deve una risposta a una signora che ci ha chiamato prima della pubblicità. Sulle potature dei platani. Sulle potature io sinceramente non ho le competenze per dire se erano opportune o non opportune. Viene predisposto dagli uffici, da tecnici che dovrebbero sapere quello che fanno, un piano delle potature che viene fatto nella stagione invernale per risolvere i problemi che pur ci sono per uno sviluppo incontrollato dell'essenza e arbore. Quindi sono convinto che anche quell'intervento sia stato fatto a ragion veduta. Per quanto riguarda l'altra cosa, credo che si riferisse non agli amministratori ma agli uffici. Gli incentivi ad alcuni dirigenti. Sì, sono quelli previsti dalla legge Merloni, credo, per la progettazione. È una normativa che è in vigore da più di dieci anni, se non ricordo male, che si applica normalmente per le attività di progettazione che vengono fatte all'interno degli uffici che non riguardano solo il dirigente ma tutto il suo staff. Quelli a cui faceva riferimento, credo, siano quelli relativi alla variante del piano regolatore. E alla sosta. No, a Poledizia la sosta non credo. I dirigenti di questione erano Lorino e Cosenza. Preciso che, anche appunto ne abbiamo parlato su ETV, all'interno del telegiornale, si commentava in qualche modo il paradosso della macchina pubblica e di alcune disposizioni, di alcune normative che sembrano quantomeno criticabili, non della legittimità con la quale l'avete attuata e sulla quale assolutamente nessuno annulla di e dicevire. Non c'è discrezionalità, se sono legittimi si fanno, se no no. No, ripeto, riguardano tutto l'ufficio, non solo il dirigente, però ricordiamo per esempio che per fare il piano di governo del territorio negli anni passati sono stati spesi 400 mila euro in consulenze esterne e poi in realtà ha lavorato moltissimo anche l'ufficio interno senza avere nessun incentivo, quindi bisogna tener conto anche di queste cose. Forse adesso c'è più attenzione anche per il momento alla spesa pubblica. Una mail velocissima, sindaco, nel frattempo io riapro le linee telefoniche, ci viene segnalata la corsia dei bus di via per Cernobbio. Sappiamo che è in una posizione un po' insolita rispetto a quanto siamo abituati, secondo questa telespettatrice è inutile, anzi crea più confusione rispetto al solito. Abbiamo una telefonata, quindi congeliamo per adesso questa risposta. Pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera, volevo parlare col sindaco se è possibile. Eccolo. Buonasera. Pronto. Dica, buonasera. Buonasera. Volevo domandare, i soldi che dovete mettere a posto la piazza della funicolare, non è possibile usarli per l'asfaltatura delle strade? Primo. La seconda domanda è sempre in via Teresa Cice, no, via Teresa, quella che porta l'autostrada, ci sono sempre i camion di Lauria che quando uno esce dallo stop non vede mai niente. In via? via Cecilio? Via Cecilio. Li avevano già telefonato delle altre persone, lei aveva detto sì sì ci penso, guarderò, ma in cambio sono sempre lì. Vigili, la multa non gliela danno. Non mi ricordo di questa segnalazione, io di questa segnalazione non mi ricordo, mi scuso, mi sarò dimenticato. Mi spiace, adesso cerco di ricordarmi, adesso me lo faccio scrivere. Il problema è che io guarderò, fa sempre quei sorrisi, sembra che prenda in giro la gente. No, vabbè, un sorriso, un sorriso... La gente che l'ha votato non mi sembra che... Dica. Niente, vorrei avere una risposta. Chiaro? Sì, ho capito. Grazie. Buona serata, grazie. Dunque, no, io sinceramente non mi ricordo della segnalazione dei camion su via Cecilio, mi capita di dimenticarmi, domani verifichiamo questa cosa e non ho capito tra l'altro bene in che posizione e spero che sia via Cecilio, visto che parlava di via Teresa Ciceri, non so quale fosse l'indicazione precisa. Per quanto riguarda invece i soldi per Piazza De Gasperi, credo. Piazza De Gasperi, cioè Piazza De Gasperi. Sì, certo, sono scelte da fare, l'ideale sarebbe riuscire a far tutto, penso che sia importante anche cercare di riqualificare qualche parte della città, ovviamente, senza togliere troppe risorse alla manutenzione ordinaria, che pure è importante. Abbiamo una telefonata, pronto, buonasera. Pronto? Buonasera. Buonasera, ci dica pure. Buonasera. Buonasera, io sono proprietario di un piccolo appezzamento a Tavernola, nella zona alta del... Pronto? Sì, 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 ci dica. Sì, 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 sentiamo. Io sono proprietario di un piccolo appezzamento di terreno. Sì. Deve abbassare il volume della televisione e parlare solo al telefono. Col cellulare si può. Sì, sì. Assolutamente, però abbassi il volume della TV, se no non riusciamo a parlarci. Sì, sì. Deve abbassare il volume della televisione e parlare solo al telefono. Bene, bene. Ci dica, ci dica. Guardi, ci sono molti telespettatori in attesa, quindi le chiediamo subito la domanda. Io sono proprietario di un piccolo appezzamento di terreno a Tavernola, nella zona alta del paese. No, ecco, la invitiamo a richiamare perché così non riusciamo, quindi chiediamo al telespettatore... C'era una domanda indietro. Esatto. C'era una domanda indietro che andiamo a rispondere, però al telespettatore se vuole richiamare più tardi abbassi il volume della televisione. Chiudiamo le linee un momento perché ci sono alcune mail alle quali chiedono di rispondere. Allora, abbiamo prima visto Via per Cernobbio. Sì, ma a dire la verità è stata accompagnata da molte polemiche all'inizio, poi non ho la pretesa di avere riscontri da tutti, però man mano che è passato il tempo io ho avuto sempre più riscontri positivi. Questo non significa che non rimanga il problema di un utilizzo improprio della corsia, quindi di tanti furbi che passano ancora sulla corsia dei bus. Tra l'altro, in modo che non conviene neanche a loro, perché io più di una volta mi sono visto sorpassare a sinistra da chi si metteva sulla corsia dei bus e poi alla fine arrivare all'incrocio con Via Bellinzona per primo, stando sulla destra. Di fatto a me sembra che funzioni, certamente ci sarebbe bisogno di un maggior controllo di chi si comporta in modo scorretto, perché non è bello essere in coda e vedersi passare i furbi di fianco. Rapidamente altre mail, giustamente Simone ci riscrive su Piazza Santa Teresa. Ah ecco che è vero che non ne abbiamo risposto. Esatto, quindi c'è un ponteggio, scrive Simone, è presente da anni sotto il ponte della ferrovia, che è un brutto biglietto. Credo che sia quello vicino al cantiere del posteggio, se non sbaglio. Lì purtroppo è una questione annosa e ancora irrisolta, perché c'è una situazione irrisolta dal punto di vista edilizio ed urbanistico con la società che ha realizzato il posteggio di Piazza Santa Teresa. Ci sono stati contatti proprio in questi giorni per vedere di trovare una soluzione evitando un contenzioso. La situazione è abbastanza complicata. Mi auguro anch'io che si possa risolvere in breve, ma non è semplicissima perché non è mai stato chiuso quell'operazione iniziata forse nel 2006 addirittura, molti anni fa. Quasi dieci anni fa. Adesso bisogna trovare il modo di uscirne bene, però non è bello certamente. Rapidamente ancora un paio di mail, una alla quale volutamente non rispondo perché ha dei toni che non mi piacciono, quindi dico solo il nome, Lucrezia, invito ovviamente a scrivere ma con toni nei limiti della decenza. Però ci scrive un commerciante di Via Zezio che chiede perché i parcheggi di Via Zezio, nello specifico dal 57 al 50, non sono ancora blu? I pendolari piazzano le macchine al mattino e le portano via la sera. I clienti con l'auto sono sempre meno perché non trovano un posteggio e quindi ci sono dei danni dal punto di vista... Via Zezio... Qualcuno che chiede i posti blu c'è anche la vera. Qualcuno chiede i posti blu. Accidenti, io non mi ricordo il numero, faccio fatica a individuare qual è il pezzo di Via Zezio e sono un po' in difficoltà perché dice non sono ancora, quindi non ho capito se sono quelli previsti nel provvedimento che sono da integrare o se invece è una richiesta per il futuro, per cui faccio un po' fatica a capire se è un intervento che è in previsione o se è una richiesta da tenere in considerazione per il futuro. Cercheremo, magari mi girate anche la mail sul mio indirizzo di posta elettronica e vedo di capire a cosa si riferisce. Peraltro a proposito di soste e mobilità ricordiamo che il 17 febbraio, mi corregga se sbaglio, parte la prima tranche della nuova ZTL con Piazza Roma che verrà chiusa il traffico e quindi parte il primo step. Il tempo viene attuato progressivamente, credo siano già a buon punto, la rettifica dei parcometri in conformità al piano tarifario che è stato approvato poche settimane fa e mi sembra che funzioni in modo corretto. Ci saranno alcuni posti da tracciare nuovi, speriamo che faccia qualche giorno senza piovere perché adesso è un po' annegato in questo mese per cui era un po' difficile. Un'ultima mail prima di riaprire i telefoni, ci scrive Gianni che dice da oltre un anno è stato inaugurato il ponte da Villa Olmo a Villa del Grumello, ad oggi è ancora desolatamente chiuso, qualche spiegazione sulla spesa dei nostri soldi spesi. Sì, tra l'altro su questo è stato fatto con contributi regionali e intervento di Camera di Commercio, quindi di fatto bisogna dar conto anche di contributi arrivati da altri soggetti che dobbiamo ringraziare. Nel frattempo la interrompo un secondo, chiedo alla regia di mettere in sovrimissione il numero perché riapriamo le linee 031 33 00 655 sindaco e tespansione tv.it. Prego. Bisognava completare il collaudo amministrativo e quindi il saldo della ditta che ha eseguito i lavori, che è cosa che dovrebbe avvenire a breve. Poi c'è il problema da risolvere nello sbarco al di là del parco di Villa Olmo perché si arriva nella zona delle serre con una possibilità di immissione su via Caronti che va comunque delimitata anche perché confina con un'altra porzione di terreno che è di proprietà privata e non del comune. Con questa proprietà privata, le Canossiane per intendersi, c'è un accordo che è stato raggiunto a seguito dell'approvazione del PGT quindi c'è la disponibilità a consentire il passaggio con la richiesta però di delimitare l'area di vita d'uso pubblico rispetto all'area che rimane utilizzata dai privati. Inoltre si dovrà avere con un altro ponticello sul valletto che c'è poi sulla destra che ha in previsione di realizzare camera di commercio collegare quest'area anche con Villa del Grumello. Quindi speriamo che arrivare di là bisogna almeno rendere accessibile. Io mi auguro che per l'estate possa certamente essere operativo. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Buonasera. Pronto? Buonasera. Buonasera. Buonasera signor sindaco, lo ringrazio per la gentilezza, la pazienza, la dolcezza che ha a sentirci reclamare. Posso sorridere? Sì, sì. Sgridato anche perché sorride. Sgridano anche se sorrido. Si mette alla gogna ogni 15 giorni. Alla gogna, a disposizione dei cittadini diciamo. No, è perché non è che lui può rimediare a tutte le cazzate scusi la parolaccia in diretta. Esatto, non si può dire. No, senta, le volevo chiedere, visto che mettete mano ai parcheggi, ma non è possibile almeno mettere alla domenica qualche parcheggio gratuito anche dei posti blu? Sì, qualcuno, non so se ci sono già stati rettificati i parcori. Però so che, signora la ringrazio, adesso rispondiamo subito. Credo, buonasera. Grazie, buonasera. Allora, che io sappia, da quanto mi ricordo perché il dispositivo era abbastanza complesso, nel nuovo piano della sosta c'è una possibilità in alcune zone di un parcheggio gratuito alla domenica? No, è previsto. È previsto? Sì, tutta la zona, diciamo, a sud del Cosia e la parte alta della via di Viale Innocenzo. Non so se sono già stati modificati i parcometri o se lo saranno nei prossimi giorni, comunque in quelle aree, fatta eccezione per il tratto di Via Leoni dove ci sono diversi esercizi commerciali che, anche bar, che al contrario, come diceva il signore, sono penalizzati dalla gratuità perché non c'è rotazione. Nelle altre vie è prevista la gratuità domenicale e anche nella parte alta nord-est, se non sbaglio, se ricordo bene, via Crispi e Largo Radice, ma non sono sicurissimo. Un attimo di pubblicità, Sindaco, a tra poco. Etg più Sindaco, l'appuntamento con Mario Lucini, primo cittadino di Como, le telefoni per adesso ancora chiusi perché abbiamo qualche mail da leggere, c'è una precisazione sui posteggi non ancora blu di Via Zezio, i commercianti dicono ci riferiamo alla zona tra il civico 53 e 70 di Sant'Agata. Domani controllo dove è il 53 e 70. Poi, rapidamente, un attestato di stima, prima è stato sgridato perché sorride, però c'è anche qualcuno che l'apprezza e questo ascoltatore che non si firma dice che se tutti i politici fossero come il nostro Sindaco saremmo a posto, nessuno è perfetto, tutti sbagliano, ma il signor Lucini si dà da fare ed è una persona onesta. Grazie. Un attestato di stima, chiudiamo con una domanda, quando verrà riaperto il viadotto dei lavatori? Lo dicevo prima, secondo le ultime informazioni che arrivano da Piedemontana, se non ci saranno altri problemi dovrebbe riaprire in aprile, per cui questo... E scaricherà la zona dal traffico pesante. Per via Mugio è vitale, dopodiché quando sarà pronto anche il peduncolo che avranno visto i cittadini stanno realizzando andando verso via Tentorio e verso via Clemente undicesimo, si potrà sgravare anche la via Paoli e piazza Camerlata. Dal traffico. Non abbiamo ancora messo la grafica con l'umero, che già ci chiama, il Sindaco è richiesto. Pronto, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera, ci dica. Buonasera. Allora, io volevo chiedere al signor Sindaco... Prego. Sì, ci dica. Ecco, volevo chiedere al signor Sindaco se nel Comune di Como esistono le commissioni. E in questo caso, se le commissioni esistono, loro danno retta alle commissioni oppure no? Nella specie. Come mai Prestino, che è una parte importante, secondo me, di Como, è lasciata così alla sua via, nei suoi giorni? Perché non mette a posto le strade di Prestino? Perché sono pieni di buchi? Perché ai marciapieni di Prestino non ci si può neppure camminare? Grazie. Grazie, buonasera. Penso si riferisse alle circoscrizioni, forse più che alle commissioni. Alle commissioni. Immagino perché... Chiudiamo un attimo i telefoni, giusto qualche istante per permettere di rispondere. Bene, le circoscrizioni non ci sono più, perché sono state abolite con le ultime elezioni dalla legge nazionale. Questo ovviamente non è una scusante per il Comune per essere disattento ai quartieri. Quindi sappiamo le condizioni di Prestino che purtroppo non sono molto diverse da quelle di altre zone della città, sia periferiche che centrali. Qualche intervento è stato fatto, almeno nella parte bassa. L'ultima parte di via D'Annunzio è stata riasfaltata l'anno scorso, è stato rifatto anche il marciapiede. Certo ci sono altre zone molto meno ben tenute che pian pianino dovremo cercare di recuperare, lì come in altre zone della città. Non c'è certamente una penalizzazione voluta di alcune zone rispetto ad altre. Purtroppo la coperta è un po' corta e si fa fatica ad intervenire in modo ottimale e soddisfacente dappertutto. Rapidamente che siamo quasi in chiusura, abbiamo un'altra mail. Simone scrive, approfitto della gentilezza del sindaco per chiedere se in programma un progetto di riqualificazione nell'area dell'ex consorzio agrario in via Scalabrini abbattuto qualche anno fa. Sì, quella è un'area privata, oggetto di un piano attuativo approvato già molti anni fa, credo nel 2009 o giù di lì. Un piano attuativo tra l'altro un po' grosso, sicuramente un intervento con molta residenza, molti condomini, un numero anche di abitanti potenziali, se non sbaglio, superiore alle 200 unità che si è fermato. Unità abitative o proprio abitanti? No, abitanti, credo, mi sembra di ricordare 250 o 300 abitanti, è un'area molto grossa. È stato approvato il piano attuativo nella passata amministrazione, è stata fatta la demolizione dei fabbricati esistenti, poi, così come per molte altre aree della città, per alcune siamo abbastanza contenti, per altre un po' di meno, con la crisi del mercato immobiliare non sono state mai richieste le concessioni di lizi, non si è mai convertito in operatività il permesso urbanistico. Quindi si può fare, ma evidentemente... Potrebbero presentare domani il permesso e noi dovremmo darglielo, anche se è un po' troppo pesante per i miei gusti come intervento, certo che l'area così non è ben messa, ce ne sono tanti fermi, c'è quello di Via Cumano, un altro che sono contento che non parta, diciamo, mentre altri mi spiace molto di più, tipo il San Gottardo piuttosto che l'ex cinema centrale, ci sono tantissimi piani approvati negli anni scorsi che con lo sboom immobiliare sono fermi, l'ex Danzas è ferma anche quella, sono tutte aree sulle quali sono autorizzati progetti che però poi il privato sceglie legittimamente di non attuare perché non ci sono le condizioni. Riapriamo i telefoni 031-330-0655 per le ultime telefonate oppure sindaco-espansionetv.it Rapidamente una segnalazione, una serie di buche in via Oltrecolle, cartello 30 all'ora a causa buche e totale buio, la raccogliamo. Il buio? Vabbè, le buio... I lampioni comunque... Il buio lo controlliamo, ogni tanto salta un pezzo di questa città, avvisiamo del buio di via Oltrecolle. E' pronto? Magari lo sanno già, magari sono già stati avvisati gli uffici, speriamo che siano solo lampade e non rete perché sennò gli interventi sono più lunghi e più difficili. Abbiamo un ascoltatore in linea, pronto? Buonasera. Pronto? Buonasera, ci dica pure. Buonasera, sono Sergio, sono... Sentivo prima di parlare di Prestino, io ho detto esattamente lo stadio del ghiaccio a Casate. Sì. Diciamo che, quello che volevo dire al signor sindaco, io vedo in giro che vanno in giro gli stradini a rattoppare queste buche con questo asfalto a freddo, chiamano. Però per me è una cosa esattamente che non serve a niente, perché l'asfalto a freddo buttato giù nelle buche, dove quando piove, nel giro di un quarto d'ora viene eliminato. Quando piove, sì. Non vedo cosa serve andare in giro a far perdere tempo a questi poveri uomini sotto l'acqua, così, per chiudere queste buche che non servono a niente. La seconda cosa, dicevo, sempre riguardo al Prestino, che è una zona a tenere un attimino più controllata, perché c'è in giro tanta brutta gente alla notte. Io ho chiamato più di una volta i carabinieri, ma prima che vengono fuori passano tantissimo tempo. Ringrazio sindaco, buona giornata. Grazie, buona giornata. Grazie. Beh, sui controlli delle forze di polizia, ovviamente anche loro, come tutti gli organi dello Stato o gli enti locali, non è che hanno grande esubero di organico, per cui anche loro dovranno scegliere delle priorità. Io devo riconoscere a carabinieri, polizia e polizia locale, massimo impegno per il controllo del territorio. Credo anche i risultati di questi giorni, in ordine all'immediata repressione di alcuni fenomeni, e alcuni fenomeni danno conto dell'impegno che le forze dell'ordine stanno mettendo per il controllo del territorio. Poi certamente non sempre riescono ad arrivare dappertutto. Per quanto riguarda le buche, lo sappiamo che quando piove, no, intanto in genere sotto la pioggia in genere non viene posato neanche l'asfalto a freddo, perché effettivamente non fa in tempo a metterlo giù che se ne va immediatamente. Quindi su quello sono d'accordo con lei. Purtroppo non è risolutivo neanche quando non sta piovendo, perché alla successiva pioggia è facile che venga portato via. Però con le buche di determinate dimensioni è comunque opportuno cercare di riempirle per il tempo che dura l'asfaltatura a freddo, perché si contengono i rischi, sia per gli automobilisti, per i ciclisti, per i pedoni. Per cui è certamente un lavoro non risolutivo, perché alla pioggia successiva si riforma la buca, però nel periodo, purtroppo in questo periodo è continuato a piovere, però nel periodo in cui dura si evita qualche danno in più. Poi d'estate si potrà intervenire a caldo. Abbiamo l'ultima telefonata. Pronto, buonasera. Ci dica brevemente che siamo in chiusura. Pronto? Pronto? Sì, ci dica pure. Niente, non riusciamo a collegarci, quindi chiudiamo per adesso i telefoni, perché anzi, per adesso, ormai siamo in dirittura d'arrivo, le faccio però io un'ultima domanda. Ah, lei ha sempre l'ultima domanda. Io ho sempre l'ultima domanda. Sindaco, l'assessore al bilancio è ancora lei? Una delega pesante, per certi versi, soprattutto in momenti in cui gli soldi non ce ne sono, oppure non ve ne fanno spendere. Ha deciso di tenersi lei questa delega, quindi l'assessorato al bilancio, oppure sta lavorando per... No, non ho deciso di tenerla io. Come ho detto altre volte, voglio trovare la persona giusta per poter affidare tranquillamente questa delega. Preferisco metterci tutto il tempo che serve e assumermi questa incombenza, piuttosto che fare scelte di cui non sono convinto, per cui sto cercando di trovare disponibilità di persone che rispondono alle aspettative che abbiamo al profilo. Ci dà un termine? No, no, non ve lo dò il termine. Sindaco, grazie per essere stato con noi, ringrazio tutti voi all'ascolto e buona serata. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.